Giorgio Lacrimini, presidente di questo Sansepolcro, che si appresta ad iniziare questa nuova avventura. Un'avventura che tutti ci auguriamo possa essere veramente coronata da un sogno, che è quello di ritornare in Serie D. Nel suo saluto ai giocatori ha detto che essenziali sono le motivazioni. Sì, diciamo che sono quelle che alla fine animano e che determinano tanti risultati. Sì, siamo in una situazione in cui abbiamo fatto una bella squadra, abbiamo preso dei giocatori importanti. Credo anche che ci sia il giusto mix tra gruppo giovani e gruppo un po' più esperto. Quindi è logico che stiamo lavorando per fare qualcosa di importante. Raggiungere degli obiettivi è sempre difficile, però cerchiamo di arrivarci nel senso di far di tutto perché quell'obiettivo sia sempre più vicino. Quindi anche quest'anno è entusiasmo, però ripeto, le motivazioni sono quelle che alla fine determinano tutto. Sarete ancora sul mercato nelle prossime settimane? Ora valutiamo alcune situazioni. È logico che il mercato è aperto, le situazioni sono sempre da valutare. Se c'è bisogno, credo che qualcosa si possa fare. Auguriamoci che ci sia bisogno, nel senso che non adesso ma anche fra qualche mese, valutando la situazione, auguriamoci sempre che sia positiva. Se c'è da ritornare sul mercato lo faremo.